Ma che è? Cos'è sto rumore? Sembra tipo qualcuno che... Sta sniffando questo? No! Sta leccando, cos'è? Ma questo è Paolo 2.0, ma che fa? Anzi, scusa, dobbiamo darci del turo ormai, giusto? Cosa stai facendo, Paolo? Paolo! Sono su Wikileaks! No! Come Wikileaks? No, Wikileaks! E che fa? Sì, sto facendo una sanche. Eh, una sanche. E poi di che cosa, scusa? Una sanche di cipolle e piselli pacossati. Pacossati? Piselli? Che cos'è, c'è i piselli pacossati? Cioè? Eh, vabbè, ma sei proprio un 56k. Non mi dire che tu non hai a casa il Paco, c'è... Ma come fai a cucinare, scusa? Come sempre, con i fornelli, metto la pasta sul fuoco... Il forno, queste cose qua. Ah, metto la pasta sul fuoco, i fornelli... Ma cosa siamo all'età della cica? Io mi dimentico sempre con chi ho a che fare. Ma noi stiamo parlando o ciaccando, scusa? Eh, stiamo parlando, no? Credo di sì, sì. No, basta, ci rinuncio! No, Paolo, dai, non fare così. Sì, ogni volta, ho appena aperto la chat di M2O, senti? Oh, ragazzi, aprite la chat, mi raccomando, altrimenti Paolo si agita, dai, si incazza. Si può sapere cos'è questo Paco, Jet? Guarda, ho stato un party sabato. Ho pacossato per tutti. Se vuoi, ti invito a casa mia, così ti faccio vedere. Eh, no, no, non lo so, magari un'altra volta. Un'altra volta è meglio. Ma vuoi poscorre? Io volevo solo amicare. Guarda che possiamo amicare lo stesso, eh. Eh, per adesso però posponiamo. Mi fa piacere che prendi sempre più dimestichezza con il linguaggio del sistema binario. Eh, sempre di più. Sì, sì. Paolo, magari la settimana prossima ci mangiamo una pizzetta anche senza pacossare, che dici? Ma che pizza è pizza d'Egitto? Poi uno suda, puzza. Al massimo mi chiamo su Facebook. Eh, vabbè, come vuoi tu, dai. Io però pospongo. Sei uscito con successo dal programma. Eh, vabbè, lui sa che vado un po' ad amicare, che dici? Sì, sì, io me ne vado proprio via. Continua a qualcuno piace presto.